Un giorno Gesù raccontò ai suoi amici questa parabola. Il regno di Dio è come un padrone di casa che uscì a cercare operai per la sua vigna dove coltivava l'uva. Trovò degli operai e disse loro che gli avrebbe pagati un denaro per una giornata di lavoro. Poi uscì di nuovo alle nove del mattino, vide altri uomini disoccupati in piazza e li chiamò a lavorare nella vigna, dicendo che avrebbe dato loro quello che era giusto. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre e fece ancora così. Anche verso le cinque uscì e vide altri uomini che stavano lì e disse loro Perché siete stati qui tutto il giorno senza fare niente? Gli uomini risposero perché nessuno ci ha chiamati a lavorare. Il padrone disse andate anche voi nella vigna. Quando fu sera il padrone della vigna chiamò tutti e pagò tutti allo stesso modo. Gli uomini che avevano lavorato di più pensavano che avrebbero preso più denaro ed erano arrabbiati. Ma il padrone disse Amico, io non ti faccio torto. Eravamo d'accordo che ti avrei pagato un denaro e ho fatto così. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.